Devo dire che c'è un aspetto, e io le ringrazio nel senso di quello che dice che è veramente emozionante, perché farebbe qualcosa che è degno di essere molte visto, è una cosa bella, perché chi come me è un lettore innanzitutto, prima di essere uno scrittore eccetera eccetera, sa bene che ci sono dei libri che ti raccontano una cosa diversa ogni volta che li leggi e ogni volta che li prendi fra le mani. C'è un aspetto di Valerio che io tengo tantissimo a dire, a cui pensavo adesso che Ale rispondeva alla domanda precedente a cose del suo papà, no? Valerio ci dice, io ho vissuto una vita di privazioni, generazione dei nostri nomi, mio padre con me non parlava, mio padre tornava a casa avendo lavorato e portava le sue risorse, il mio padre con me non ha mai parlato, io ho fatto più di mio padre, nel senso che io ho vissuto una vita di privazioni, perché mio padre faceva quello che poteva, io ho potuto più di lui, vi ho dato di più, vi ho dato maggiore benessere, maggiore serenità, maggiore stabilità, maggiore... perché avete ancora da lamentarti rispetto a quello che era il mio modello? Quindi la tenerezza nei confronti di quest'uomo è che lui fino alla fine, quando poi dice sì ho sbagliato, ho sbagliato, e ti chiedo scusa, ti chiedo per torno, adesso cerchiamo di rimediare, ho sbagliato e non può più rimediare. La tenerezza è che quest'uomo in realtà non capisce di aver tolto qualcosa, dice io se avessi giocato di più con voi e lavorato di meno, dandovi anche però meno benessere, sarebbe stato meglio? Non lo so, è un po' la domanda, ricordiamo tutti il meraviglioso film di Alberto Sotti, di che c'è guerra c'è speranza, vi ricordi? Quando lui alla fine dice vi avete scoperto, io faccio il trafficante d'armi, la polpietti, tutto questo benessere deriva da questa cosa, che io faccio, facciamo così, se volete che io faccia ancora e vi dia tutto questo benessere, svegliatevi domani alle 6, perché devo parlare? Se no lasciatevi tornare, se volete che io riduccio, lasciatevi tornare, la mattina d'armi, va alla camera, svegliatevi, io le sono riuscite, secondo me è spettacolante. Comunque volevo raccontarvi un piccolo dettaglio che secondo me, a proposito del papà di Alessandro e di Alessandro, dice molto è anche della mia città. Nella mia città c'è un palazzo, questo palazzo ha all'interno di un quartiere che si chiama Sanità, è molto, è un quartiere ventrale della mia città, è un palazzo che si chiama Palazzo San Felice, ma che è noto anche alle qualità di quel palazzo dello Spagnolo. All'interno è una scalinata d'arco molto particolare, questa scalinata è un luogo dove si sono girati molti film. nel 1967, si gira in questo luogo un film che si chiama questi fantasmi, tra l'altro l'opera di Edouane, protagonista il meraviglioso, il grandissimo mattatore, che per girare questo film, con Sofia Lorre per l'arco, si porta dietro il suo bambino, che ha due anni, che viene a Napoli per la prima volta. Questo bambino, che ha due anni, che viene a Napoli per la prima volta, è questo anziano signore. Questo anziano signore, che non sa che Giorgio è, viene a Napoli per la prima volta e guarda il papà di Città del Porto. Esattamente cinquant'anni dopo, quindi nel 2017, questo signore, nella stessa scalinata, in secolo criminale dei panni dell'ispettore dell'ispettore della sala di Pizzone al Porto. Il personaggio che interpretava Antonio Gassman, nella commedia di questi fantasmi di Edouane Pirippo, da Will Film, si chiamava Pasquale Loyano. E cinquant'anni dopo, caso a me, questo signore interpreta, nello stesso luogo, un ruolo in cui il personaggio, che magicamente, secondo me, si interpretava, si chiama Loyano. Ora ditevi se non c'è una magia nell'arco, se non c'è una magia in questa famiglia, e se non c'è una magia in quella città. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa cosa che ti ha raccontato, la scelta di lui, il giorno in cui il Sindaco di Napoli mi fece l'orgonere di fare il Cittadino Onorario di Napoli, e io ne so un po', insomma, io non la sapevo perché... Non la ricostruite... Grazie a tutti.